Musica Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Consiglio Comunale si torna in aula nel pomeriggio con la New Entry Federico Pirro, in quota Italia dei Valori e l'Irrebus PD. Il servizio di Mirko Cafaro è da seguire la nota del giorno di Michele Cristallo. Consiglio Comunale alla prova del PD. Ad un mese dall'ultima seduta, questo pomeriggio si torna in aula per il primo di tre incontri a stretto giro. Una consultazione rutinaria con un elenco di pratiche piuttosto rapide da sbrigare, ma che assume rilievo alla luce delle tensioni prodotte in seno alla maggioranza dall'ultima nomina di Lino Pasculi, in quota Italia dei Valori, ad assessore con delega a contratti e appalti. Una poltrona che il PD non ha mai fatto, mistero di voler per sé sin dalle dimissioni di un anno fa di Antonio De Caro. E in quest'ottica si intuisce come la decisione del sindaco emiliano possa aver prodotto ulteriore risentimento in animi già particolarmente provati e contrariati. A poco è servito dunque l'incontro chiarificatore di ieri con i segretari provinciali e cittadini del PD Antonacci e Tamburrino. L'area che si respira nel primo partito della coalizione di maggioranza è piuttosto pesante. C'è ma retta ed un palpabile malumore nei confronti del sindaco emiliano, al punto da rendere legittima l'ipotesi di una seduta lampo per il venir meno del numero legale. Non fosse così, questo pomeriggio si registrerebbe il rientro ufficiale in aula del consigliere IDV Federico Pirro al posto del neoassessore Lino Pasculli. Sotto certi aspetti può essere anche stimolante entrare in corsa in un momento difficile dove ti si chiede subito di prendere delle posizioni chiare, precise e non tergiversare, che peraltro non mi appartiene. Quindi da questo punto di vista lo ritengo un fatto estremamente stimolante, non solo sul piano personale ovviamente, ma soprattutto per l'Italia ha dei valori, che vistosi riconosciuto un posto in giunta deve anche dimostrare di avere idee chiare su che cosa significa amministrare una città come Bari. L'amministrazione comunale di Bari vive una fase particolarmente travagliata, caratterizzata da polemiche che rassentano la protesta e caratterizzata anche da numerose contraddizioni. Insomma non è un momento felice per il sindaco Emiliano, il quale ci mette anche del suo. Prendiamo per esempio le due facce con le quali dialoga con le forze politiche di maggioranza e di opposizione e con la cittadinanza attraverso la bacheca di Facebook che è diventato ormai il suo strumento di comunicazione. Quando parla nelle sedi politiche riafferma l'impegno per esempio a nominare quanto prima o quanto appena sarà possibile il quarto assessore del Partito Democratico. Quando invece dialoga con i cittadini dice che lui farebbe volentieri a meno degli assessori i quali creano soltanto una serie di problemi, così come eliminerebbe tutte le scelte, tutte le nomine di scelta politica. Il che appare ancora più strano se si considera che lo stesso Emiliano è poi il segretario regionale del Partito Democratico con l'ambizione di fare il salto appena sarà possibile dalla guida dell'amministrazione comunale alla poltrona di governatore della Regione Puglia. Questa sorta di distonia con la macchina del Comune gli provoca anche qualche infortunio. Prendiamo per esempio la riqualificazione della caserma Rossani. Tempo fa è stato indetto un concorso di idee europeo per fare della caserma un riferimento importante per una serie di servizi per la città e di una serie di strutture anche a servizio del territorio regionale. Invece nei giorni scorsi è stato pubblicato un avviso pubblico nel quale è inserito anche la caserma Rossani per la ristrutturazione, concessione e gestione di beni e proprietà comunali. Insomma c'è una confusione dalla quale bisogna uscire, una confusione che non giova certamente alle ambizioni di una città che vuole essere il volano dello sviluppo di una vasta area quale quella che interagisce appunto con il capoluogo pugliese. Un'inerzia inspiegabile e sospetta, così le opposizioni in Consiglio Comunale sulla mancata decisione dell'amministrazione circa il progetto del parcheggio interrato di Corsocavur. Vediamo il servizio. Ancora in bilico il progetto del parcheggio interrato di Corsocavur in attesa del completamento dell'opera gemella di Piazza Cesare Battisti, la cui consegna al momento in ritardo di oltre tre mesi, prosegue l'inerzia decisionale dell'amministrazione comunale. Il sindaco Emiliano non intende recedere dalla volontà di coinvolgere la città nella decisione di dar seguito ad un'opera già appaltata ormai sette anni fa, ma a breve le casse comunali potrebbero essere esposte al rischio di un pesante risarcimento, si parla di 14 milioni di euro nei confronti della ditta appaltatrice. È proprio su questo aspetto che le opposizioni in Consiglio Comunale sono tornate ad alzare la voce per bocca del coordinatore Ninnicea. Ninnicea è indubbio che c'è una società che sia giudicata un appalto e che quindi debba realizzare quelle opere. Non comprendo i motivi per i quali il sindaco voglia affrontare sul piano anche del contenzioso questa società, a meno che non intenda, ma è nella sua mente ed esclusione nella sua mente, operare così come sta proponendo con la famiglia matarrese una sorta di compensazione, cioè non mi fate il parcheggio di Corso Cavour, rinunziata a quell'opera vi do in compensazione un altro tipo di lavoro, ma non si può amministrare una città in questo modo. Noi dobbiamo partire da un presupposto. Bari è una delle pochissime, se non l'unica città d'Italia che non ha un'area chiusa al traffico e per area si intende una superficie adeguata. E Piazza Cesare Battisti, dove sono in corso i lavori del parcheggio interrato, è diventata zona sensibile per lo spaccio di droga. Ieri sera la polizia ha denunciato un pregiudicato barese di 19 anni sorpreso con 22 grammi di hashish. Il giovane dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti. E questa mattina la nomina ufficiale del nuovo presidente della Fiera dell'Evante Gianfranco Viesti. L'investitura è in una cerimonia alla presenza del governatore Nichi Vendola. C'era per noi Cristina Ferrigni. È cambiato il mondo e noi ci dobbiamo adattare al mondo che cambia, perché questa è una istituzione che deve creare valore e posti di lavoro per la città. Per fare questo deve cambiare profondamente anche in tempi ragionevolmente brevi. I problemi sono numerosi, non mancano. E certamente quando ci sono i problemi ci sono anche le soluzioni. Tutto sta ad andare molto d'accordo con i soci, affrontarle insieme, trovare insieme le soluzioni e risolverle una volta. La privatizzazione delle attività fieristiche è già provvista da una legge regionale, quindi è una strada obbligata da questo punto di vista. E si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della settima edizione dell'IMID Biennial, convegno scientifico dedicato alle malattie immunomediate. Vediamo di che si tratta in questo servizio. Ogni anno aumentano sempre più le malattie immunomediate, così come aumentano i fattori che incidono sulla loro evoluzione. Proprio per questo il convegno scientifico tenutosi oggi presso l'assessorato alle politiche regionali della salute ha avuto come tema centrale i percorsi evolutivi dei disordini infiammatori immunomediati e ambienti correlati. Un'analisi che si avvalsa di contributi di studiosi di caratura internazionale che hanno ripercorso, partendo da 40 anni fa, la scoperta delle IgE, quinta classe di immunoglobuline anticorporali. Sono patologie, intanto tra le più diffuse in assoluto, sono patologie intanto croniche, infiammatorie croniche che derivano da una disfunzione di fondo del sistema immunitario. Quindi l'immunomediazione è legata al fatto che molto spesso ad essere interessati dal disturbo non sono singoli organi periferici, ma semmai quei singoli organi periferici sono soltanto bersaglio rivelatore di patologia che ha sede nel sistema immunitario. Quindi si tratta un po' di riconvertire il sistema, perché invece il sistema molto spesso è organizzato più a gestire il sintomo d'organo piuttosto che a stabilizzare la causa che lo genera. Sempre più sono le specialità richieste nella cura di queste patologie e la creazione di una sinergia temporale e logistica di intervento sui pazienti è l'obiettivo principale del progetto, in poche parole un'ottimizzazione dei percorsi ospedalieri che potrebbero portare anche ad una conseguente ottimizzazione dei costi. Ogni luogo deve trovare una sua vocazione, questa vocazione deve essere territoriale, non necessariamente il territorio deve essere una cosa di serie B, perché purtroppo questa è l'idea corrente. IMID è importante perché ha già dimostrato nei fatti che territorio significa serie A o può significare serie A. Questo è il punto, perché le malattie monomediate sono in crescita enorme ed è necessario affrontarle con metodologie rigorose. In chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Soleggiamento diffuso, vento che soffierà da sud-sud-est con intensità di 10 km orari, temperature comprese tra i 7 e i 17 gradi. Vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti.